Buongiorno, questo vlog inizia abbastanza tardi, perché comunque mi sono svegliata tardi, appunto, stamattina. Abbiamo già mangiato, io sono già pronta per uscire, anche se entro alle 3 e mezza al lavoro, però adesso sto andando a casa di mio nonno perché è arrivata mia zia dalla Sicilia, con i bambini e mio zio, quindi ancora non li ho visti, quindi vado a salutarli, anche perché mio babbo mi ha detto che ieri sera appunto sono passati lì dal lavoro dove lavoro io, però sono passati che erano tipo le 9 e mezza e io praticamente ero già uscita, quindi. Appunto adesso vado a salutarli, anche perché io li vedo sì e no forse due volte l'anno, cioè tutto va bene. Comunque, prima di andare, visto che era un po' di tempo, vi faccio vedere i disegni, quelli che vi dicevo. Allora, uno è questo, scusate per questo rumore ma non so come mettermi, uno è questo, non so se si vede molto, il cagnolino nel frattempo, ovviamente so, ovviamente è Firenze, poi c'è Ponte Vecchio di Firenze, poi ce n'è altri, insomma. In sostanza sono tutti così questi disegni, comunque adesso andiamo perché se no ero in anticipo di fare tardi anche al lavoro, visto che mi dovevo fermare anche a farla ricarica al telefono, quindi adesso andiamo così, faccio tutte le cose con calma. Siamo appena arrivati a casa, quando sono uscita dal lavoro sono passata a casa dei miei genitori, perché mia mamma mi ha dato delle cose di Natale, infatti adesso vi faccio vedere, che sono delle cose carine carine, allora, infatti poi dopo le metto queste qui, dopo le ho messo le altre cose. Allora, praticamente ci ha comprato questo qui, tutto quello, mi sembrano i peli delle oche, insomma, molto, il tipo Marilyn Monroe, molto carino, infatti perde i pelucchi, comunque va bene. Poi ci ha preso questi qui, questo tetto, di cuoricini molto carino, Poi ci ha preso questa palla, bella questa, molto bella, poi questa qui, trapporata, molto carino pure questa. Poi ci ha preso questi babbo nasalini qui, molto carini pure questi, attaccare tutti all'albero. E poi, infine, ha preso questa palla qui, anche questa molto bella, tutte cose molto belle. Comunque, mi volevo scusare, poi neanche perché quando vedrete questo vlog, già è uscito l'altro, quindi, comunque vabbè, adesso si stiamo con queste cose, vado su, anche perché domani c'è la sveglia presto, perché ritorniamo a vedere, cioè, io ritorno a vedere il canino e porto il mio ragazzo con me, perché ancora lui non l'aveva visto, appunto per il discorso, per vedere come si comportava con lui, ve l'avevo già detto, appunto. E poi, no, quelle le avevo comprate, io nulla che volevo fare, vedo l'altra cosa. Scusate, ma niente, tanto sono solo delle coperbine che avevo comprato l'anno scorso per fare tutti i miei miei latali. Comunque, no, vi dicevo prima, siamo tornati a test casa, non vi ho detto, non vi ho detto, siamo stati a mangiare dei suoi genitori, perché comunque ancora non sapevano mai, cioè, non siamo andati da, non mi ricordo l'ultima volta che siamo stati a cena a casa loro. Comunque, la mercoledì, c'è la prima operazione, e qui siamo stati un po' tutti e due, soprattutto lui. Io già sono parecchia motiva di mio, quindi potrete immaginare come vi posso sentire. Comunque, io spero sempre in bene, lo sapete, ormai sono... spero che vada tutto bene incrociando le dita, ma sì, che andano tutto bene. Io adesso... Poi mia zia mi ha portato anche questo tè siciliano, non mi mette a fuoco niente, comunque in questa confezione nera. Infatti non vedo l'ora di provarlo, non so se provarlo stasera o domani. Boh, comunque, insomma, poi lo proverò. Dunque, adesso vado su in casa. Ah, e poi mia mamma, si è dimenticata, ha preso anche questa qui, che è la stella di Natale. a mettere in terrazza, poi tanto quando l'avremo messa, è tutta illuminata, ve la faccio vedere. L'unica cosa che dobbiamo vedere, è che questo cavo qui non ci passerà mai dalla finestra, quindi dobbiamo creare un cavo. Poi su in casa vi devo fare vedere i pantaloni che mi ha comprati mia mamma, ve ne devo assolutamente ricordare. Dunque adesso vado su in casa. Allora, questi sono i pantaloni che vi dicevo prima. Di venti rimangono tutti neri, normali, però qua su hanno la particolarità che c'hanno tutti gli strass sulla vita, poi c'hanno le loro tasche, molto, poi dietro sono classici, normali, sono molto carini, infatti. Penso che domani me li metterò, poi dovrò stirare anche tutta questa cosa qui. Domani penso che mi metterò a stirare, ebbene sì. E niente. Poi vi dicevo del quadro, questo praticamente è il quadro che ci ha portato mio babbo, che avevano a casa i miei genitori, noi l'abbiamo messo praticamente proprio dietro la porta d'entrata. L'unica cosa, la cosa buona che abbiamo noi a casa, abbiamo il vidocitofono, vediamo chi ci suona. È una cosa molto utile. Scusate se parlo piano, è quasi mezzanotte, quindi già dormono le gente. Comunque, io vi mando un enorme bacione, scusatemi anche per il mio aspetto a capelli, nel trucco e tutto, ma veramente, è stata una giornata piena, veramente piena. Comunque, vi auguro una buonanotte e ci vediamo al prossimo video. Ciao!